Il problema dei rifiuti è evidente che uno dei punti di maggiore interesse è quello di tentare di omogeneizzare le procedure di raccolta differenziata nei vari comuni che differiscono quasi di quartiere in quartiere. È importante che si ci renda conto che se si riesce a fare questo si riduce oltre il costo di gestione il costo di mantenimento dell'impianto e soprattutto si riesce a ridurre quello che è per il cittadino, è una tassa che sta diventando assai salata. Grazie